Ritorno in Devero, dove i tre mesi, i metri di neve di un mese fa ormai sono un ricordo, ridotti solo a qualche chiazza. E da Devero risaliamo ancora una volta verso il crampiolo e il lago di Coderago. L'uomo che non si ferma mai, mai, mai. La neve se n'è andata quasi del tutto, lasciando il posto ai primi fiori alpini. L'uomo che non si ferma mai. Ed eccoci ormai arrivati alle baite di crampiolo. L'uomo che non si ferma mai. Ecco il laghetto delle streghe. Ed ecco raggiunto anche il lago di Coderago, che ai primi di giugno si presenta ancora quasi completamente gelato. L'uomo che non si ferma mai. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche quassù ecco il profumatissimo fior di stecco. Grazie a tutti. E tra gli alberi ecco anche una gazza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.